Amici ascoltatori, benvenuti ad Arco Baleni, la trasmissione di Arco Consumatori dedicata ai problemi che noi cittadini abbiamo ogni giorno nella nostra veste di consumatori utenti. Al microfono Franco Venni, che è il segretario regionale di Arco Consumatori, che di volta in volta presenterà i numerosi ospiti e tratterà alcuni argomenti che penso siano di vostro interesse. Al microfono oggi ospite nostro è Claudio De Gregorio, avvocato, nostro consulente come Arco Consumatori. Con lui continuiamo ad affrontare il problema della giustizia, o meglio, quello che il governo ci promette che farà, perché mi pare che ancora non l'abbia fatto, in questo settore. Comunque, cosa ci dovremmo aspettare da questa cosiddetta riforma? Benvenuto l'avvocato De Gregorio, buongiorno. Benvenuto a voi. Ci inoltriamo ulteriormente in questi meandri un po' oscuri della giustizia. L'altra volta abbiamo parlato, in termini generali, di una semplificazione. La mia domanda adesso è, ma come si fa a semplificare? Si semplifica soltanto con la buona volontà dei giudici, o si semplifica anche con l'informatizzazione, con le nuove tecniche? Oppure, domanda assolutamente cattiva, non è che con l'informatizzazione, cioè con l'uso del computer, si è raddoppiato il lavoro? Cioè, da una parte bisogna avere la roba informatica, dall'altra bisogna averla anche cartacea? Ma, diciamo che da un po', da qualche tempo, è stato introdotto il cosiddetto processo telematico, però ci sono delle incongruenze forti, perché, prima di tutto, è ancora valido, tranne che per i decreti ingiuntivi, il doppio registo, cioè si può presentare sia cartaceo che telematico. E, invece, per i decreti ingiuntivi, che sono quei decreti che il giudice emana su prova scritta inconfutabile, si deve fare solamente per via telematico. Ma questo è già in vigore? Questo è già in vigore, solo per i decreti ingiuntivi. Per il resto è un sistema misto, ma con delle forti incongruenze, perché non tutti i passaggi sono chiari, ci sono delle cose che a me inquietono abbastanza, per esempio, la fattura elettronica. La fattura elettronica sarebbe che per i crediti dello Stato, diciamo, il professionista che ha dovuto fare un'opera per lo Stato, di qualsiasi natura, deve emettere questa fattura elettronica. Però, se tu vai negli uffici a chiedere come si fa questa fattura elettronica, nessuno lo sa. E' obbligatoria? E' obbligatoria, e quindi si fanno prima le riforme senza dare gli strumenti. Di fatto, chi deve avere un pagamento dello Stato con fattura elettronica, almeno fino a oggi, per tutto il mese di agosto è stato così, non riesce a avere il pagamento. E' lo Stato contento, perché così non paga. Ho capito, forse è una bella trovata, non so. Allora, informatizzazione significa anche formazione. Sono previsti dei capitoli per la formazione del personale? Sì, però il personale deve essere da un lato formato, dall'altro però è sempre... Quanto tempo? In quanto tempi? Sei mesi? Sì, questi sono i tempi, sei mesi, un anno. Ma il problema è che il personale è sempre di meno a lavorare, perché la più parte cerca di andare via in pensione, perché con tutte queste novità va un po' in crisi. E abbiamo una situazione tale che abbiamo magari una sola cancelleria aperta, con fila di avvocati, che cercano di attingere i fascicoli e fare le cose che deve fare l'avvocato. Ma non esiste l'archivio elettronico? Allora, se io non posso avere la sentenza? Ecco, però il discorso sì e no, nel senso che siccome i cancellieri sono pochi, mettono sulla digitazione elettronica solamente un elemento, ma per esempio non mettono i documenti. Per cui devi fare la fila per vedere che documenti ci sono. Quindi il potere dei cancellieri è aumentato? Però poverini, loro sono pochi, come gli operai, tanti operai nella messa del signore, diceva Ratzinger, sono pochi e quindi magari non hanno il tempo di mettere anche i documenti. Se mettessero i documenti, l'avvocato non dovrebbe prima cliccare per vedere se c'è il provvedimento e poi andare a vedere i documenti relativi in cancelleria? Tanti studenti che devono fare l'apprendistato, che devono fare esperienza, non potrebbero essere messi un po' a fare cose di questo genere, così imparano a fare qualcosa? Hanno messo del personale transitorio per qualche mese, sei mesi, eccetera, c'erano questi discorsi, però recentemente con la spendita e il review sono stati tolti. Quindi i cancellieri sono rimasti orfani anche di questi ausiliari. Correvoce, ma questa è sicuramente una malignità, una cattiveria irripetibile, che spesso i giudici si fanno fare sentenze dei cancellieri, è vero? È una favola metropolitana. Ma bisognerebbe vedere caso per caso, certo il cancelliere, almeno nel nostro sistema, era un tempo il migliore collaboratore del giudice, e quindi collaborando molto col giudice poteva magari anche avere un voce in capitolo. Però adesso con il fatto che è sommerso di lavoro, mi sembra una specie in via di estinzione, cancelliere, e quindi è difficile anche questo. E la legge cosa prevede? Nuova legge, cosa prevede a questo proposito? Ma la legge, come sempre, non si pone tanto il problema del personale o di fare entrare personali, ma da sempre le leggi che noi avvocati subiamo, perché le subiamo queste leggi, Sì, ma siete anche in Parlamento a farle? No, forse si trasformano i colleghi quando vanno là, diventano parlamentari e non fanno più gli avvocati. Perché qual è il problema? Uno può mettere mano al discorso teorico, le semplificazioni, la durata del processo, le norme più rapide, i riti cosiddetti sommari, cioè non più processi lunghi, eccetera. Però se non c'è il cancelliere, il giudice, l'ufficiale giudiziario, se gli organici sono sottodimensionati, non serve. Quindi forse servirebbe più una politica di far funzionare la macchina della giustizia sotto il profilo umano, del personale e anche degli incentivi. Perché se tu vedi un cancelliere in tribunale, dici poveretto, cioè nel senso che sta lì ore e ore... Insomma, questa nuova legge praticamente aggiunge vagoni a un treno che ha una locomotiva che comincia a dare qualche segno di stanchezza. Noi avvocati riteniamo che la locomotiva si sia fermata da tempo. Credo che l'avvocatura abbia questo ruolo sussidiario e addirittura infatti i giudici stanno dando sempre più forza e spazio alla giustizia onoraria. Che significa che degli avvocati vengono chiamati a integrare i collegi giudicanti, sia in tribunale, adesso sembrerebbe anche in corte d'appello, per poter dare un maggiore numero di giudici. Però qual è il problema? Che sono un po' giudici di serie A, di serie B. Nel senso che i giudici togati hanno dei stipendi molto validi, mentre questi altri giudici onorari che sono presi dalle fine dell'avvocatura vanno a gettone di presenza. Ma chi ha fatto l'avvocato per una vita e quindi fa l'onorario giudice, ha le competenze? Cioè ci si può affidare di un giudice? Io penso di sì, perché in tutti i paesi del mondo gli avvocati anziani, in particolare in Inghilterra, nei paesi anglosassi, vengono ammessi poi alla magistratura. Il problema non è nemmeno questo, il problema è che secondo me questa linfa nuova dei avvocati giudici non è che sposta più di tanto, perché l'arretrato è spaventoso, la durata dei processi è spaventosa e io credo che per esempio una passi malevola che bisognerebbe togliere è quello del rinvio sic che si dice, cioè il rinvio per fare il rinvio, ora non c'è il giudice, ora non c'è l'avvocato. E come potrebbe essere? Beh, mettere un limite per esempio ai rinvii, cosa che fino ad adesso non è stato fatto. Ma il rinvio a volte va di anno in anno? Tra l'altro, forse un rinvio a 15 giorni. Io ti racconto un'altra cosa simpatica di un collega che è andato a vedere un processo americano di separazione che mi ha fatto sorridere perché purtroppo un altro problema di noi avvocati è che al di là di persone serie che si pongono di problema che il lavoro va pagato, in genere non si paga tanto l'avvocato, non ci si rende conto che ha anche degli oneri molto forti perché gran parte di quello che lui incassa lo deve dare allo Stato. E mi ha fatto dire questo aneddoto, che è questo processo americano, questo collega è andato a assistere, e il giudice fa alla parte col suo avvocato, lei ha pagato il suo avvocato? Sì, ah benissimo, poi fa all'altra parte, lei ha pagato il suo avvocato? No, ah mi conferma l'avvocato che lei non è stata pagata? No, non sono stato pagato. Ah va bene, la sentenza tra 15 giorni, cioè il giudice ha rinviato in attesa che pagasse. Allora se avessimo noi avvocati questi sistemi, insomma forse andremo anche meglio perché questo è un altro problema. Ma voi avvocati non prendete un po' troppo? Ma nel succento che noi prendiamo 95 è dello Stato, quindi... Ah ecco, ho capito, e chi va pagato subito? Sì, perché vuole il contributo unificato subito, lei pensa che per esempio per una causa al tribunale amministrativo in certe materie ci vogliono 6 mila euro e passi. Ho capito, quindi siamo in una situazione un po' delicata. Io vorrei introdurre però un argomento che scotta le persone, insomma quando ha a che fare con la pubblica amministrazione. Allora, che senso ha ricorrere alla magistratura quando siamo... E quando la pubblica amministrazione, un funzionario della pubblica amministrazione, un dirigente combina guai? La pubblica amministrazione, storicamente, ci vuole ancora forse molto tempo per farglielo capire, ritiene di essere superiore al cittadino. Mentre per esempio in Inghilterra c'è la common law, cioè praticamente siamo sotto la stessa legge, la legge comune, invece noi abbiamo dei ritaggi di tipo, diciamo, napoleonico, perché Napoleone riteneva che era uno Stato forte e compagnia e quindi ha fatto il Consiglio di Stato prima, che poi è diventato giuridizionale. Insomma, praticamente piano piano si è formata una giustizia amministrativa, poi adesso è diventata abbastanza, diciamo, neutrale, prima era un po' schiava anche della pubblica amministrazione, una pubblica amministrazione forte, piena di burocrazia e quindi... Capace di grandi ingiustizie e di fare danni di spaventoso. Capace di fare, soprattutto con, io no, per carità... Con i ritardi. Sì, ma anche il decentramento, il cosiddetto decentramento tanto voluto alla Lega, forse come idea era buona, però è successo che adesso, siccome sono tutti decentrati, a me è colpito, per esempio, una scuola, non mi ricordo in quale settore, in cui il preside era un amante degli animali e nella scuola, credo media o superiore, comunque una scuola statale, ha messo anche il canile. A che, insomma, sì, capisco l'autonomia, però mi sembra che si sta esagerando questa autonomia. Ho capito. Diciamo, in qualche modo, il dirigente infedele, chiamiamolo così, in termini un po' generici, subisce soltanto una giustizia amministrativa auto che si autoalimenta, nel senso che il dirigente poi viene sanzionato, se viene sanzionato, all'interno della pubblica amministrazione, o c'è la possibilità da parte della magistratura di intervenire, da parte i casi di ruberie, vabbè, questo è chiaro. Ma, per esempio, casi nel quale il ritardo di un atto amministrativo provoca un danno rilevante? Ma il cittadino sta messo peggio se deve fare le cause ai giudici, tutto sommato se deve fare le cause ai funzionari, c'è la tutela sia civile che penale e amministrativa, perché c'è sempre, non è stata ancora tolta, l'omissione dei dati d'ufficio, se uno non fa il proprio dovere. È chiaro che ci sono dei sistemi per mettere in mora il funzionario, in particolare bisogna fare una diffida, c'è la legge sulla trasparenza amministrativa, che per fortuna c'è, che dà dei termini perché un atto possa essere fatto, quindi bisogna mettere in essere questa messa in mora del funzionario e poi si può attaccare, anche personalmente si può attaccare, si può anche fare una causa civile, oltre che penale e amministrativa. È una speranza. Non è una minaccia, è una speranza. Certo, insomma, io ho visto che sono un avvocato, spezzo una lancia a favore della mia categoria, poveri avvocati, perché noi abbiamo tutta questa conceria di norme, pare che sia lo Stato che abbia più norme in assoluto al mondo, abbiamo una giustizia che dura cinque anni, dobbiamo fare gli esattori subito e guadagnare dopo, non stiamo messi molto bene. Grazie all'avvocato De Gregorio, che speriamo di averlo anche nelle prossime trasmissioni, non abbiamo certamente sviscerato i problemi, li abbiamo soltanto sfiorati, ma tanto vale che cerchiamo di capire, oltre ai guai nei quali siamo immersi, che cosa si può fare, cosa sta facendo lo Stato, anche con questo governo, con queste nuove riforme. Grazie, grazie all'avvocato De Gregorio, che saluto e alla prossima.